ho una domanda da farti tu hai mai battuto minecraft? no, mai davvero? mai battuto minecraft? io gioco a minecraft per fare casette ah ok ok sei una donna in pratica no? si, esattamente allora, ti dico la verità battere minecraft è molto facile bisogna prepararsi un po' il ferro si trova relativamente facilmente possiamo cercare 5 diamanti e facciamo un enchanting table con l'enchanting table ci possiamo potenziare la roba intanto vado a prendere il ferro scusa ma per entrare per andare nel land ti servono le underperle e a me ma vanno trovate quelle allora, ci sono diversi metodi in realtà per trovare le underperle il primo fra tutti andare nel nether grazie all'update della 1.16 mi pare c'è un bioma particolare che è quello blu in cui spawnano un sacco di enderman ahhh fantastico ok dai vedi vedi ah ciao sono cagato addosso stavo per ascrittarti fortissimo che cazzo l'ha preso? creeper creeper torco di von di ti ho salvato il culo mi serve una mano c'è un scheletro che mi sta puntando non mi rincon sono soltanto la spawn aspetta aspetta retailers vediamo se di shit l'ander per prima del per under man guarda io ho a posto c'è un'invasione comunque io ho fatto caso letteralmente rotto la mia ascia l'aiuto for mezzo ecco ecco a posto non trovo la mia roba ok la orda di zombie è stata defenestrata vieni qua vieni qua dove stai andando sei esattamente esattamente nella parte sbagliata ma io non ho più la l'armatura c'è un pezzo c'è un pezzo io che ho trovato adesso facciamo una cosa divertentissima cerchiamo una lava pool che cos'è una lava pool una pozza di lava sai perché la cerchiamo la pozza di lava no mi dica mi illumini perché possiamo fare un portale del nether anche senza avere un piccolo diamante tutto posto mi senti ci sei si sta legando sei cresciato di nuovo tieni questo e tieni questo oddio quanto cazzo di pane perfetto prendiamo su prendiamo su e andiamo in caverna ma sai cosa possiamo fare invece di andare in caverna possiamo andare per il mare e cercare delle navi se non le hai mai viste tra l'altro sarebbe un buon pretesto per farti vedere qualcosa di bello e nuovo ma che per navi va a sentire i relitti i relitti sì ok no 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 i relitti lo so a cosa sono ma quanto sei grosso c'hai la tutina dovrebbero essere troppo rare e di solito hanno un sacco di ferro dentro quindi ci risparmierebbe un po di buona a scavare ok ho già preso sali 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 e nuota che sto fa notando così si muota e prendere corsa a questo bioma non è male per trovare le poze di lava in realtà quindi questo no questo no ti devo dire la verità è un buon bioma l'unica cosa è forse è meglio una pianura c'è un figliolo c'è un figlio non riesco a prenderlo a paura di far malata polca troia ha due cuori me ne vado in questo bioma ci sarebbe guarda che c'è un c'è un po di diramazioni ma non c'è niente ho visto in giro mi sembra che tutte le porte tutte le strade portino a fanculo aspetta sto prendendo il carbone qualcuno deve lavorare qua vieni su bambino che prende il carbone il carbone si prende da solo delega questo lavoro ai bambini in africa e vieni giù non l'hanno aggiunti bisogna aspettare aggiornamento no no ok sai cosa dobbiamo fare forse degli scudi mi sembra un buon piano aspetta un attimo che rifacciamo allora torniamo per mare oddio abbiamo trovato una swamp unico le nuove c'è una swamp guarda è una mangrove swamp credo vedi ci sono tutti gli alberi strani è che è un bioma nuovo eh già hanno aggiunto anche le rane quindi eh già hanno aggiunto le rane e sono utili solamente per un tipo di luce è una cosa estremamente specifica ma se gli fai mangiare dei magma cube ti cagano fuori una frog light è una cosa stupidissima però il blocco di luce è molto figo quindi comunque c'è un enderman se ti interessa mi interessa dove sei è dove eravamo prima c'è anche uno zombie dio ma gli enderman qua sotto crazy dude easy ok posso mettere le luci vai mettere le luci che non vedo una sega uno non lo vedo non lo so e non ho più le torce se l'è andato hai mai trovato un tempio della giungla si una volta una singola volta ma ero così piccola che non sapevo manco che cazzo devo faccia ero proprio una bambina quando la cosa il tempio della giungla è relativamente poco utile però è figo mi hai trovato una mangroville aspetta guarda qui non c'è neanche l'acqua ed è tutto mad c'è ma sarebbe tipo una specie di palude però senza l'acqua palude palude secca tipo mi sono mi sono arrampicato dall'acqua se vuoi la pelle non ci serve vai se ci siamo greve un po drammatica come cosa no è perché se non se non lagga il server quindi ringrazia ah ma stai grande non funziona più il trick quello lì che metti la la luce sott'acqua e ti si crea tipo una bolla di ossigeno la luce no perché vabbè se metti una torcia si rompe è però un po di anni fa mi ricordo che era una tattica per respirare sott'acqua oh guarda ci sono le torta lunghe dove non sbatta di viaggiare perché poi perdo e poi non trovo più casa usa le coordinate ti serve le coordinate una volta e poi puoi andare dove ti pare se non esplori non ti godi le cose belle di minecraft come le tartarughe ma te la ucciso ma ho già deciso che ogni volta che aggiunge un mostro nuovo qualcosa di nuovo tipo le capre le capre quando le uccidi non ti danno niente forse ti danno una carne di pecora però questa meccanica stupida che ti caricano se tu stai fermo per un tot loro ti carica ma bellissimo ecco le capre non l'ho mai viste e se le capre caricano contro un blocco perdono uno dei corni e i corni si possono suonare praticamente è assolutamente inutile suonare i corni però fa una con la carina